e adesso ci sono tutti i ristorantini lungo la strada tutti i ristorantini qua lungo la strada si è fissuto ma l'interno si è fissuto la strada di Piazza la strada di Piazza la strada di Piazza è stata una stagione per la strada di Piazza il piazza di Piazza si è fissuto chilometri 18 qua c'è scritto eh non so ma forse parte non so da dove no non abbiamo fatto 18 chilometri sì forse parte da Sanremo no 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 con la stagione che aveva fatto me la faccio poi a Pidia e allora ti piace? Valentino è la che ci aspetta eh beh una parte si fa una bella grigliatina no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.